Tornare ad essere comunità di persone che si aiutano a vicenda, contro i malintenzionati ma anche contro le calamità naturali. Una serata di informazione ma anche di formazione sulla cittadinanza attiva è stata organizzata ieri sera all'auditorium del comune di Podenzano. I reati complessivamente sono calati ma proprio nel comune di Podenzano, nei primi quattro mesi del 2016, è stato rilevato l'aumento dei furti nelle abitazioni. Nel complesso di una serie di dati molto positivi per tutta la provincia e anche per l'Unione Valnure-Valchero, abbiamo invece un problemino su Podenzano perché qui sono leggermente aumentati i furti in abitazione e adesso stiamo cercando di trovare una soluzione per far sì che questo problema venga risolto. Le comunicazioni alle forze dell'ordine devono però seguire indicazioni precise per questo il comandante della Polizia Municipale dell'Unione Valchero-Valnure ha preparato una serie di video utili a comprendere le caratteristiche delle segnalazioni. È un cammino che stiamo facendo assieme e questa sera cerchiamo di aiutarci a vicenda, a essere sempre più precisi nelle segnalazioni. A Podenzano vivono oltre 10.000 persone ma non c'è una caserma dei carabinieri. Penso che sia uno dei pochi comuni in Italia con 10.000 abitanti a non avere una caserma dei carabinieri. Noi abbiamo presentato già un progetto in stato avanzato al Ministero degli Interni, all'Arma dei Carabinieri. Siamo fiduciosi di poterlo realizzare, spero nel mio mandato, per poter dare un punto di riferimento alla cittadinanza, un punto di controllo alla cittadinanza e fare in modo che ci sia maggior sicurezza sul nostro territorio. La possibilità di avere una caserma è concreta ma i tempi non sono veloci e occorrono almeno un paio d'anni, ha concluso il colonnello scattaretico.